Nonostante la Royal Family stia vivendo un momento molto difficile. Arrivano anche belle notizie e spicca un gesto della regina Camilla. Si sta già paragonando Camilla alla defunta Elisabetta II. Una regina amatissima e il cui ricordo è ancora vivido nel cuore dei sudditi. Purtroppo l'attuale monarchia sta attraversando un momento così delicato che può compromettere anche la popolarità dei membri della famiglia reale. Infatti la questione di Harry e Meghan sta diventando sempre più complessa e Re Carlo insieme a William non hanno nascosto ampia preoccupazione. Soprattutto dopo il rientro dei duchi di Sussex dalla Nigeria. Infatti la coppia, nonostante abbia abbandonato i doveri reali nel 2020, è stata trattata come fossero dei sovrani. E ciò ha fatto letteralmente infuriare sia Re Carlo che il principe erede al trono. Inoltre non dimentichiamoci che la principessa del Galles, Kate Middleton, è completamente scomparsa dalle scene. Ovviamente per curarsi, ma questo non fa bene all'immagine della corona. Per fortuna arrivano belle notizie e la protagonista è la consorte del monarca. Regina Camilla. Un gesto meraviglioso che le ha dato popolarità come Elisabetta II. Inutile nascondere che la regina Camilla, fino ad ora, non è riuscita a conquistare il cuore dei sudditi. La sua figura è passata purtroppo in secondo piano anche a causa della malattia di Re Carlo e del tumore diagnosticato a Kate Middleton, la principessa erede al trono. Ecco che la recente notizia di una decisione presa da Camilla innesca un po' di fiducia. Perché il popolo britannico ha davvero bisogno di vedere la monarchia come un punto di riferimento. Camilla ha annunciato. Proprio come fece nel 2019 la regina Elisabetta II. Che non acquisterà più capi in pelliccia animale. La sua scelta è ovviamente encomiabile e nobile. Perché al giorno d'oggi non è più accettabile il maltrattamento degli animali con lo scopo di creare capi d'abbigliamento o accessori. La mentalità è cambiata e dunque anche i reali devono far vedere che si trovano in sintonia con il loro popolo. L'annuncio della regina Camilla è stato diffuso orgogliosamente da PETA UK. Un'organizzazione no profit che difende i diritti degli animali. Camilla, dunque, da oggi in poi non acquisterà più pellicce. Forse, pian piano, anche la regina otterrà la popolarità che in cuor suo ha sempre desiderato.